Il trovanegozio è una funzionalità presente sul sito www.fotografia.it che consente di ricercare all'interno del territorio nazionale i rivenditori specializzati in attrezzature fotografiche, ricercandoli sia per regioni di appartenenza, in questo modo, sia indicando un indirizzo per via testuale. Scegliamo una regione, viene aperta una nuova finestra che contiene un ingrandimento dell'area prescelta, quindi in questo caso la regione Lazio, con degli indicatori riferiti ai punti vendita presenti per l'area selezionata. Possiamo utilizzare gli strumenti di zoom per ingrandire la zona, possiamo navigarla e cliccando sui riferimenti presenti avere informazioni circa il punto vendita, in questo caso la denominazione, l'indirizzo, i siti di riferimento ed un'immagine fotografica o grafica del punto vendita stesso. Possiamo ovviamente anche dare un'indicazione per via testuale dell'indirizzo di interesse, come in questo caso, oppure rifarci nuovamente alla regione, in questo modo.